Si allarga la lista delle categorie di lavoratori da sottoporre a testa antidroga. Tra questi ci sono anche medici e infermieri. Analisa Azzurra. Obbligare anche medici, infermieri e ostetriche a sottoporsi a periodici testa antidroga, ovviamente senza preavviso. In caso di positività scatterà la sospensione dal servizio. Si allunga così la lista dei lavoratori con mansioni di rischio soggetti ai controlli. Già da tre anni, infatti, piloti autisti devono dimostrare di essere puliti. L'elenco concordato fra i tecnici di quattro ministeri, quello della difesa, della salute, dell'interno e dei trasporti, verrà ora sottoposto alla conferenza Stato-Regioni per l'approvazione ufficiale. In attesa del Via Libera, all'ospedale di Galatina, in provincia di Lecce, è già scattata la tolleranza zero verso i camici bianchi in odor di cocaina. Proibito sniffare mentre si è in servizio. È questo il senso di una circolare inviata dal direttore sanitario ai propri dipendenti. Chi fa uso abitualmente di cocaina, recita la lettera, dovrà intraprendere un idoneo programma di disintossicazione. A far nascere il caso, una serie di segnalazioni anonime sulle abitudini di alcuni camici bianchi. Bocche cucite per il momento dalla direzione generale dell'ASL pugliese, mentre il documento è ora nelle mani della Procura.